Nella mattinata di giovedì 3 ottobre è stato inaugurato un pavimento in mosaico per il giardino della scuola primaria Garibaldi di Ravenna, progettato e realizzato dalle maestre e da tutti i piccoli artisti della scuola, assieme ai maestri dell'associazione Disordini, che sarà in mostra alla Viennale del Mosaico 2019. Il progetto Una carampana in mosaico per la scuola primaria Garibaldi rievoca un antico gioco di strada per bambini. Cosa prevede di questo progetto con le scuole, con la scuola Garibaldi in particolare? Questo è un progetto che è andato avanti già da circa un anno, dove assieme in collaborazione con tutte le maestri, bambini, le ragazze del disordine e l'associazione Disordini, abbiamo fatto questo progetto pilota per introdurre il mosaico nelle scuole elementari, per riuscire a salvare questo bene culturale che è la mano e che purtroppo oggi con l'avvento delle nuove tecnologie rischia di essere compromesso e quindi noi volevamo coinvolgere i bambini e le maestre in questo progetto, che è questo gioco che a seconda dei posti cambia nome, c'è chi lo chiama carampana, campana, settimana. Poi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che in tutto il mondo si gioca praticamente e i bambini hanno contattato i loro genitori, visto che è una delle scuole più multietniche di Ravenna, e si sono fatti raccontare come si chiama questo gioco un po' in tutto il mondo, per cui abbiamo scoperto come si chiama in alcuni paesi in Africa, in alcuni in Russia, in alcuni negli Stati Uniti, quindi è diventato una specie di gioco che ha preso delle valenze mondiali per capire come è nato, che è molto antico, e ne abbiamo tradotto una parte del lavoro fatto dai ragazzi a mosaico che andrà poi collocato in modo definitivo nel giardino della scuola Garibaldi di Ravenna. I bambini hanno realizzato le opere con un disegno che poi è stato trasposto in mosaico. Qui ci sono esposti tutti i disegni che hanno fatto i bambini all'interno di Santa Maria delle Croci, che è questa chiesa che abbiamo in qualche modo rivisto fare dei progetti e aperto al pubblico. Speriamo questo grazie anche all'assessore Signorino e al direttore Tarantino del Mar che ci hanno concesso in uso questo spazio. E qui sono esporti tutti i lavori fatti dai bambini e anche i lavori che sono stati scelti per fare una di queste carampane, una di queste campane a mosaico in modo definitivo. I bambini hanno collaborato e si sono divertiti moltissimo. Per quanto riguarda i disegni, tematiche comunque inerenti all'ambiente, vedo scritte come terra oppure l'universo, quindi un po' gli argomenti che sono presenti quotidianamente. Certo, loro poi li abbiamo calato, visto che la settimana prevedeva sette giorni, noi oltre sette giorni abbiamo aggiunto la terra e il cielo come partenza e arriva di questo gioco che si è sempre giocato. E quindi loro poi hanno inserito delle loro cose, delle favole, dei segni, dei disegni, dei ricordi, delle cose che hanno assorbito a casa, in famiglia, delle suggestioni. Quindi c'è un po' un universo di disegni di bambini e sarebbe bello anche cercare di leggerli e di capirli e di vedere come oggi i bambini si esprimono con le mani, con il disegno, con i pastelli, con i colori. Quindi abbiamo riportato questa manualità, hanno anche realizzato proprio il mosaico assieme alle ragazze del disordine. E ci auguriamo che questo progetto sia esportabile in altre realtà, in altre scuole, perché crediamo sia importante sia per Ravenna come città del mosaico, sia per i nostri scolari, i nostri piccoli mosaicisti. Qual è l'opera che è stata trasposta in mosaico quindi? Ne abbiamo scelto uno da diverse posti, cioè da diverse realizzazioni, uno per ognuno delle classi, per non sceglierne solo una, abbiamo coinvolto un po' tutti. Rimarrà qui in pianta stabile questa realizzazione? Fino a novembre, ci sarà fino alla fine della biannaia del mosaico, perché è inserito nell'ambito della biannaia del mosaico.